Medici di famiglia con incarico a termine per arginare l'emergenza. Ci sta lavorando la regione toscana con i sindacati dei medici di medicina generale per coprire la più grave carenza di medici di famiglia registrata nella storia. Sono già 250 i posti vacanti, tra medici di base e pediatri, ma da qui alla fine dell'anno la situazione è destinata a peggiorare ulteriormente. In Toscana andranno in pensione 229 medici di famiglia, mai così tanti, tutti insieme. Altri 350 entro il 2024, una situazione quindi estremamente critica. Nelle settimane scorse la regione era già corsa a ripari con la delibera di aprile che consente l'innalzamento del massimale anche ai tirocinanti, ma questo non basta. Di conseguenza si sta lavorando anche al piano di riordino della continuità assistenziale che prevede una globale riorganizzazione della medicina generale, nella quale convergono tutti i medici a ruolo unico a ciclo orario, ovvero sia i medici di famiglia sia i dottori della guardia medica. All'interno della riforma toscana si sta delineando un accordo che prevede di liberare professionisti impegnati attualmente in guardia medica, assegnando loro il ruolo di medico di famiglia con incarico a tempo determinato, cioè fino a quando non ci saranno numeri adeguati per ricoprire il posto. Ovviamente prima saranno esplorate tutte le altre possibilità, esaurite le graduatorie e portate avanti i bandi, ma purtroppo i numeri si conoscono e sono assolutamente insufficienti a coprire le necessità. I cittadini del resto, questa è l'unica certezza, non possono restare senza medico di famiglia.